Siamo con Giovanni Friuli, presidente della Proloco di Carosino. La sagra del vino di Carosino appunto rappresenta ormai una realtà storica, consolidata, festeggia le nozze d'oro. Siamo infatti alla cinquantesima edizione. Le novità rispetto al passato, come la si sta strutturando e il messaggio attuale che si vuole lanciare. Allora, sì, rappresenta questa sagra del vino un momento importante perché è arrivata a mezzo secolo di vita, quasi mia coetanea. Quindi io sono nato con la sagra del vino, quindi rispecchia fedelmente la mia storia di Carosinese. Allora, dopo cinquant'anni, quest'anno, ringraziando la disponibilità dell'amministrazione comunale, abbiamo noi della Proloco per la prima volta un'associazione, abbiamo gestito tutta la fase organizzativa per sviluppare un progetto un po' innovativo, cioè per rigenerarla completamente perché abbiamo notato che negli ultimi anni la sagra del vino, pur essendo un brand importante che sistematicamente ogni anno nel corso degli anni ha attirato tantissimi visitatori. Abbiamo quest'anno pensato di evitare che fosse messa in ombra da tanti eventi enogastronomici e soprattutto quest'anno nel mese di agosto che si sono addirittura accavallati. Per questo motivo abbiamo pensato di svilupparla a settembre, un periodo in cui ci sembrava un po' anche più coerente rispetto alla vendemmia, cioè il momento in cui inizia la raccolta del prodotto che la sagra vuole promuovere. La novità rispetto alle altre sagre è quella di valorizzare una peculiarità nostra tutta carosinese che non è mai stata valorizzata efficacemente nel corso degli ultimi 50 anni per tutta la durata della sagra ovvero mi riferisco alla fontana zampillante vino. Pensiamo che attraverso la valorizzazione di questo elemento peculiare che nel sud Italia non ha nessuno, la seconda fontana del vino più conosciuta in Italia è quella di Marino quindi parliamo già di una distanza di 500 chilometri. Quindi abbiamo pensato che promuovendo questo elemento si potrebbe rigenerare la sagra parlando sempre del vino ma non in termini di produzioni massicce ma in termini di incami turistico. Cioè vorremmo utilizzare questo elemento per iniziare un percorso di valorizzazione turistica del nostro territorio.